Evento dell'otto a Bologna, che adesso le chiedo quanti pullman stanno partendo, quanti, insomma, mi dia un po' la misura di quanti partiranno dalla Toscana. Toscana che anticiperà un po' anche i temi dell'otto a Bologna, il 6 e il 7 in varie località. Mi parli un po' di questa iniziativa. Allora, noi il 6 e il 7 novembre saremo in tutte le province della Toscana a fare delle iniziative. Davanti alle prefetture per dire basta clandestini, pensiamo prima agli italiani, agli italiani che dormono in Macca, agli italiani che non riescono a nevare a fine mese. Davanti a Equitalia per dire portiamo una fiscalità normale, non 40, 50, 60%. Noi diciamo 15% fisso, se evadi va in galera. Questa è la nostra proposta, molto semplice perché è assurdo di ridurre le tasse dello 0,00. Ci vuole una proposta shock. Davanti agli ospedali, saremo presenti 5 ospedali, a Firenze, al Maier. I nostri addetti pagheranno il parcheggio a coloro che vanno a trovare i bambini malati in ospedale. Secondo noi è qualcosa di abberrante che quando uno va in ospedale deve pagare il parcheggio. Ecco, almeno non è che uno va a divertirsi, va in discoteca, va a comprarsi qualcosa, va a farsi i cappelli. Va in ospedale a trovare un malato. Facciamogli il parcheggio gratuito. Per cui sabato per protesta pagheremo noi il parcheggio, ci siamo dati un budget, però alle prime due o trecento macchine andremo a pagare il parcheggio come segnale. Ma in tutte le città toscane? Il parcheggio lo pagheremo in 5 ospedali. Quali? Allora, quello di Pisa, quello di Lucca, quello della Versiglia, Firenze. In questi ospedali qui noi andremo a pagare il Maier di Firenze, perché poi ce ne sono parecchi, no? Ma a differenza andremo a pagare il parcheggio sabato. Per cui chi andrà a trovare un bambino malato sabato va al parcheggio gratuito. Poi l'otto andremo a Bologna. La manifestazione dell'otto è importantissima. Il concetto è liberiamoci, è aperta a tutti, non ha un colore. Liberiamoci da chi... Il colore è quello della Lega. È della Lega, però è di un'area, anche di chi è stanco. Di maniera di non la penso come la Lega, ma vado a protestare. Vado a protestare che cosa? Che contro l'annuncite. Ecco, noi vogliamo qualcosa di più concreto, vogliamo un governo che pensa prima agli italiani e poi eventualmente agli altri. Per cui andremo lì. Dalla Toscana abbiamo 12-13 pulma che partono pieni, di solito le manifestazioni andavamo un paio di pulma, a questo giro pieni, con un bilico e una ruspa davanti che ci guiderà fino a Bologna. E a che ora partirete? Partiremo, no, la ruspa la troviamo a Roncobilaccio, in strada, però comunque l'idea è entrare a Bologna con il bilico e la ruspa e 12 pulma che entreranno a Bologna. Andiamo da tutta Italia, perché secondo me Bologna sarà in base. Da tutta Italia ruspe o è un'iniziativa toscana? Dalla Toscana, la ruspe è un'iniziativa toscana. Dalla Toscana